Ben ritrovati, siamo in studio con il professor Vito Lorusso, primario di oncologia medica nell'Istituto Oncologico di Bari. Stiamo parlando di tumore della prostata, voi potete intervenire telefonando al numero 080 501 9998, lo vedete scritto in sovrimpressione. Parlavamo appunto di tumore della prostata e avevamo esami da fare, ma ci sono dei fattori che fanno prevedere come andava avanti il tumore una volta diagnosticato, i fattori prognostici? Sì, in realtà nel momento in cui si diagnostica un tumore si ha un esame istologico e un indice che è il cosiddetto indice di glison, che è dato da una somma di due numeri e di solito l'indice di glison inferiore a 7 è l'indice di buona prognosi, tanto che il tumore della prostata che è un indice di glison di 6 viene considerato ai limiti della malignità. Quindi 7, 8, 9, 10 di glison sono sicuramente valori che sono progressivamente espressione di una maggiore gravità, di una maggiore possibilità rapida di aggravamento. Ovviamente il volume del tumore è estremamente importante, c'è il tumore piccolo al di sotto del centimetro è sicuramente un tumore che può essere facilmente asportato, può essere facilmente curato e guarito. È ovvio che quanto più grosso è il tumore, tanto maggiore è la possibilità che questo tumore abbia già dato le temibili metassiasi a distanza di cui parlavo prima, che colpiscono soprattutto il tessuto osseo e quindi spesso accade che un soggetto che abbia trascurato, si sia trascurato, che abbia avuto una diagnosi non precoce, venga alla nostra osservazione in una situazione già di metastatizzazione diffusa, ripeto, soprattutto a livello di tessuto osseo. È chiaro che anche il PSA ha la sua importanza, quanto più è elevato, tanto più questo costituisce un fattore prognostico negativo perché ovviamente il PSA è in rapporto con la quantità di tumore, PSA elevato significa maggiore quantità di tumore, è un rapporto diretto, diciamo, di diretta proporzione, proporzionale diretto tra quantità di tumore e livello di PSA. Ecco, il trattamento di questo tumore qual è? È chiaro che le forme piccole, quelle che noi chiamiamo T1, T2, al di sotto di 2 cm di diametro, possono essere trattate in maniera efficace con il trattamento chirurgico che purtroppo però non può essere un trattamento di tipo conservativo, nel senso che se la prostata ha un tumore deve essere asportata in toto. Le possibilità di trattamento, come vedete dalla diapositiva, possono essere anche la semplice osservazione. Quando il tumore è di piccole dimensioni o ha dei fattori prognostici non gravi, allora si può anche decidere di lasciarlo lì e di osservarlo nel tempo e di intervenire soltanto in un secondo momento. È chiaro che questo, che è una situazione di rischio, viene riservata a pazienti che hanno ad esempio delle controindicazioni agli interventi chirurgici, per esempio pazienti cardiopatici, pazienti con malattie epatiche o renali, che potrebbero tollerare male una anestesia generale e che quindi facendo il rapporto tra il beneficio che otterrebbero da un intervento e il rischio di sottoporre questo paziente ad un'anestesia, si decide se il tumore non è proprio così maligno di lasciarlo lì e di tenerlo sotto osservazione. Altre possibilità sono la terapia ormonale che rappresenta ormai una delle armi più efficaci nella lotta contro il tumore prostatico, ma la terapia ormonale va riservata in quei pazienti nei quali non esiste più la possibilità di un intervento chirurgico radicale, ma con la terapia ormonale si riesce a bloccare e a rallentare lo sviluppo di questo tumore anche per anni. La terapia ormonale viene instaurata attraverso una soppressione degli ormone androgeno, perché l'ormone androgeno rappresenta come un cibo per il tumore della prostata. Il tumore androgeno, l'ormone androgeno, ormone sessuale maschile, fa crescere il tumore della prostata perché sulla superficie delle cellule del carcinoma prostatico essi sono dei recettori che recepiscono l'ormone sessuale maschile, il testosterone, e questo facilita la moltiplicazione cellulare e quindi la crescita del tumore, la diffusione a distanza della neoplasia. In questo caso la mascolinità del soggetto viene bloccata? Viene bloccata. Il primo trattamento del tumore della prostata all'inizio del secolo, parliamo del secolo XIX, non del XX, era l'asportazione dei testicoli. Fin quando non ci sono state delle sostanze, quelle di cui noi disponiamo, che attraverso una somministrazione per via intramuscolare o per via sottocutanea, mensilmente, riescono a bloccare la secrezione del testosterone a livello testicolare, agendo però a livello dell'ipofisi, parliamo dei cosiddetti analoghi delle ormone luteotropo, LHRH agonisti, questi farmaci, dei quali noi abbiamo fortunatamente oggi disponibilità, operano una castrazione chimica. Il soggetto viene bloccato, diciamo, nella produzione del testosterone e la mancanza di testosterone provoca un arresto e addirittura una regressione del tumore prostatico anche quando è diffuso, per cui noi assistiamo ad esempio a pazienti che vengono nel nostro studio lamentando forti dolori perché hanno delle metastasi osse da tumore della prostata, hanno grossi disturbi urinari, non riescono ad urinare perché la prostata è diventata troppo grossa e costituisce un ostacolo alla fuoriuscita dell'urina dalla vescica, che dopo già la prima somministrazione intramuscolare di questi farmaci, dopo 15 giorni, hanno già un immediato beneficio sul dolore osseo e un ripristino quasi dalla normalità delle funzioni, diciamo, urinarie. Quindi sono farmaci che hanno nel paziente quasi un effetto miracoloso perché il blocco dell'azione del testosterone ai confronti di tumore blocca immediatamente la crescita del tumore. Quindi il tumore si pasce di tesosterone e se lo togliamo se lo togliamo diciamo che viene affamato in qualche maniera e regredisce nelle sue dimensioni e quindi anche nella sintomatologia correlata. Il trattamento chirurgico si è data di asportare alla prostata. Si è chiaro. Si parla di trattamento chirurgico con robot? Sì ecco oggi i trattamenti chirurgici hanno avuto un'evoluzione enorme sia a livello di chirurgia urologica ma a livello di chirurgia addominale, di chirurgia toracica. Si parla di interventi chirurgici sempre meno invasivi, ad esempio attraverso una chirurgia di tipo laparoscopico che in gran voga adesso si riesce a fare una nefrectomia cioè l'asportazione del rene per via laparoscopica, si riesce a fare l'asportazione del retto per via laparoscopica, si riesce a fare anche l'asportazione della prostata per via laparoscopica. E diciamo la laparoscopia che cos'è? La laparoscopia consiste nella diciamo nell'effettuazione dell'intervento chirurgico a livello addominale ad esempio senza aprire l'addome. Vengono fatti, c'è una depositiva che mostra la chirurgia laparoscopica, vengono fatti tre forellini diciamo delle dimensioni di 1-2 centimetri attraverso questi forellini vengono introdotti degli strumenti diciamo ottici che hanno alla punta di questi strumenti esiste la possibilità di effettuare taglio e quindi anche di asportare i tessuti tumorali per cui l'addome non viene traumatizzato, il paziente ha un trauma minimo anche se è ovvio che questo tipo di intervento deve essere fatto in anestesia generale, qualunque organo si debba asportare in laparoscopia è necessaria ovviamente all'estesia generale perché l'organo viene asportato nella stessa maniera come se fosse un intervento chirurgico come noi diciamo a cielo aperto. Il paziente risparmia il taglio sull'addome risparmia il trauma, risparmia l'emorragia, un'estesia di più breve durata e quindi la degenza post operatoria è sicuramente meno lunga della degenza che invece si ha quando il paziente viene sottoposto all'aparottomia. Il robot invece è un'ulteriore diciamo evoluzione perché il chirurgo sta seduto come forse si può mostrare la diapositiva è seduto non davanti al paziente ma è seduto davanti una console e attraverso questa console c'è uno schermo con il quale vede a diciamo in dimensioni molto più grandi in maniera ingrandita quello che c'è il paziente all'interno del corpo attraverso degli strumenti ottici e con delle manopole manovra dei bracci robotici che in maniera estremamente precisa vanno a fare la prostatectomia vanno a fare la isterectomia vanno a fare praticamente oggi con la chirurgia robotica è possibile fare qualunque tipo di intervento e con un trauma minimo è una precisione molto elevata perché il chirurgo guarda tutto ingrandito di 20 volte. Ecco questa in tre abbiamo parlato di medicina di farmaci poi abbiamo parlato di chirurgia e poi c'è la radioterapia la radioterapia ha una sua funzione molto importante nel carcinoma della prostata perché ecco questa è l'esempio di una radioterapia esterna abbiamo una radioterapia esterna e una radioterapia cosiddetta interstiziale chiameremo interna per diciamo per renderla più comprensibile al pubblico in pratica la radioterapia esterna che cosa fa fa convergere dall'esterno sulla prostata che viene identificata con una tac che quella rossa vengono fatti convergere dei raggi che vanno in qualche modo a bruciare per dirlo in termini semplici il tessuto tumorale e quindi l'intera prostata senza e quindi a distruggere la prostata senza intervenire chirurgicamente la radioterapia invece interstiziale consiste nella infissione di maghi brachiterapia o radioterapia interstiziale consiste nella infissione di aghi diridio come vedete nella fotografia che vi mostrano adesso e quindi questi minuscoli aghi di sostanze radiattive esplicano la loro funzione distruttiva di tutto il tessuto prostatico loro circostante sono trattamenti alternativi all'intervento chirurgico io ritengo che se non ci sono controindicazioni di carattere clinico cioè se il soggetto può sopportare l'anestesia se il soggetto non è troppo anziano l'intervento chirurgico nei casi tumore prostatico di piccole dimensioni sia sicuramente da preferire rispetto ad un trattamento di tipo radiante sia esso di radioterapia esterna sia esso di radioterapia interstiziale perché perché è inevitabile che con queste radiazioni una pura minima parte del tessuto tumorale venga risparmiato e quindi si ha più facilmente una recidiva locale